Coperte, candele e beni di prima necessità, utili a condurre un'esistenza dignitosa. E' quanto di cui hanno bisogno le tante famiglie di migranti che arrivano sul territorio nord di Bari e dove ci restano per svolgere lavoro nei campi. Cose di cui la Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria si è sempre occupata. Ciò che fa pensare invece l'elevato numero di famiglie del posto, 250 quest'anno per la precisione, che a causa della crisi non riescono più a garantire neanche un pasto caldo ai propri figli. Ciò che dispiace, ciò che fa male è vedere davvero le tante famiglie che vivono distenti e la cosa che lascia un po' perplessi quando gli altri dicono ma alcuni si barricano e non è vero, non è falso, che sono poveri, è una bestialità quello che si dice. E' vero, su dieci persone tre sono falsi, però non abbiamo altre sette famiglie che è vero, che vivono i crampi della fame e del freddo. Qui abbiamo famiglie anche professionisti, diplomati che vengono a ritirare il pasto caldo e che chiedono le coperte, gli anziani, non accenderanno anche quest'anno il riscaldamento per risparmiare, perché è un anziano che precipisce 450 euro, paga 200 euro di fitto, le medicine, il vitto e le utenze. Come fa a pagarsi ancora il riscaldamento davvero in punta di piedi, chiedendo anche scusa per questi rinnovati appelli? Però abbiamo bisogno di coperte, candele e viveri per l'inverno che si appresta già questi giorni, insomma, il freddo si è affacciato. I beni possono essere donati direttamente presso la Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andrea tutti i giorni dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.